Dopo aver eletto Riccardo Bonanno presidente con 7 voti su 11, la consulta giovanile di Fiumefreddo di Sicilia nei giorni scorsi si è riunita in assemblea per discutere alcuni dei primi atti dell'organo comunale. I nostri obiettivi per questi due anni sono intanto la valorizzazione del nostro territorio e soprattutto l'aggregazione e la partecipazione dei giovani all'interno del nostro comune. Come primo punto del nostro programma è quello di incontrare il sindaco, gli assessori e i responsabili di servizio per avere così un quadro generale del nostro paese e poter agire in maniera efficace, non molto un evento e basta. E poi inoltre abbiamo pensato anche di lavorare per commissioni che sono cultura e spettacolo, sport e ambiente e politiche sociali in modo da poter agire in maniera molto precisa su queste varie realtà. Sport e ambiente suggeranno di vedere che Fiumefreddo, la situazione dello sport, l'ambiente e anche mettersi in contatto con le varie associazioni sportive oppure ambientali e avere come riferimento anche gli assessori allo sport e all'ambiente, all'ecologia. Poi abbiamo cultura e spettacolo che il loro scopo è quello di creare degli eventi adatti per i giovani e anche una collaborazione con la scuola e con la preside per fare attività per i ragazzi e con i ragazzi. Poi infine abbiamo politiche sociali che come punto di riferimento abbiamo la dottoressa Patanè, Essore Gambino, che cercherà di creare un ambiente molto gioioso per i bambini che molte volte hanno delle difficoltà oppure hanno dei momenti di svago però non molto positivo. E c'è poi l'intento di far partecipare la cittadina anche tramite soprattutto i social? Sì, abbiamo pensato infatti di creare una pagina Facebook creata appunto ieri e poi a breve faremo anche il nostro logo in modo da essere riconoscibile all'interno del nostro paese. Nel corso della prossima assemblea si fisserà l'evento di presentazione della consulta che si terrà a fine settembre al Casale Papandrea e la possibilità di far inserire la consulta nello statuto comunale in modo tale da essere attiva a prescindere da qualsiasi amministrazione comunale dalla quale la consulta si ribadisce indipendente, ritenendosi solo uno strumento per avvicinare i giovani alla partecipazione amministrativa e nient'altro. Cercate di lasciare questo mondo un po' migliore di come l'avete trovato. In questa citazione di Baden Powell, Bonanno e la consulta identifica se stessa e la propria azione.